La Regione Sardegna finanzia la ricerca con la legge regionale 7 del 2007. Con il nostro piano di uguaglianza di genere vogliamo sostenere le ricercatrici e far loro capire che possono avere maggiore accesso ai finanziamenti. Abbiamo previsto alcune iniziative importanti in tal senso, l'introduzione del linguaggio di genere e la formazione sul linguaggio di genere per coloro che scrivono il bando, la sottoscrizione da parte dei valutatori di un patto di genere in cui si impegnano a non discriminare nella fase di valutazione, la presenza nel bando di una sezione dedicata a garantire gli equilibri di genere e quindi prevediamo un punteggio aggiuntivo in fase di valutazione, due ore di settimana di sportello amico per sostenere le ricercatrici a fare domanda e attività di promozione del bando. Con il nostro piano di uguaglianza di genere vogliamo diventare un modello che si possa espandere dalla ricerca anche alle altre fonti di finanziamento.